senza troppi rimpianti senza troppi rimpianti dunque dove eravamo rimasti vogliamo continuare e che ne devo dire ancora non mi avete detto molto posso sapere a cosa servono tutte queste informazioni sulla verità sono per i nostri archivi e che ci fate in questi archivi conserviamo traccia della memoria per quelli che verranno dopo ma se la memoria è soltanto mia a cosa può servire agli altri vedete non è così semplice noi proviamo a salvare qualcosa per darlo in donna agli anime nuove si è mai chiesto perché i bambini abbiano un rapporto così stretto con la felicità mi sta dicendo che selezionate i ricordi allora vogliamo continuare quali erano i suoi sogni bah un po quelli di tutti ma ce n'era uno in particolare sa uno piccolo e gigantesco allo stesso tempo fatto apposto per non essere realizzato